L'amministrazione verbanese finisce in un servizio delle Iene. Nella puntata di martedì 5 marzo, la nota trasmissione Mediaset si è occupata della vicenda che vede il sindaco, Silvia Marchionini, soggetto delle querele depositate in procura della Repubblica dalla segretaria generale del Comune, Antonella Mollia. Si tratta dei fatti che Mollia aveva reso noto nei mesi scorsi sui principali organi di informazione, sostenendo di aver subito... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.